Ciao ragazzi bentornati sul canale bentornati su world of warships oggi andiamo a vedere il gameplay con i sottomarini avete capito molto bene si possono utilizzare i sottomarini nell'operazione della settimana chiamata terrore degli abissi molto rapidamente dobbiamo distruggere una volta per tutte la rasputin che si trova a quanto pare nel covo nero quindi dobbiamo impegnarci assolutamente per mettere fine alla sua crudeltà per fare questo al momento abbiamo tre cacciatore tre sommergibili a disposizione vedremo quale andrò ad utilizzare devo ancora decidere un'altra cosa molto importante abbiamo la nuova tenda consegne del giorno ogni giorno ci verrà data in maniera del tutto gratuita una ricompensa ecco io ho appena ottenuto il container halloween 2018 domani 50.000 crediti e così via visto che ci siamo a questo punto apriamo anche in diretta il container vediamo cosa troviamo abbiamo trovato esattamente tre bandiere fantastico ragazzi direi che ci siamo andiamo in partita con un sommergibile a sorpresa lo devo ancora scegliere e allora ragazzi eccoci pronti con la ger falcon vediamo cosa riusciamo a fare veniamo spottati a 4.3 chilometri con il tasto f e con il tasto c andiamo a regolare la nostra profondità vediamo un attimo abbiamo sicuramente delle emissioni da dover completare dobbiamo cercare il covo esiglia la rasputin per sempre ragazzi ma è lontanissima fai rotta verso le isole di 5 corvi e individua e distruggi la rasputin e qualcos'altro no eh elimina tutti i nemici ecco appunto abbiamo no dai abbiamo 12 minuti per arrivare e come facciamo qua abbiamo tre tipi di siduri allora vediamo un attimo danno 10.867 portata a 8 chilometri aspetta perché non vorrei avvicinarmi troppo è vero che veniamo spottati a una distanza molto diciamo breve però 56 nodi 8 chilometri ok abbiamo molti siduri siduri congelanti siduri e questi sono i due siduri normali sicuramente i congelanti se ricordo bene vanno appunto a congelare e a bloccare i nemici con tutti gli armamenti ok vediamo un attimo ah i siduri ecco qua no dai da dietro ma veramente e come facciamo qui scusate cioè io posso usare i siduri da dietro quindi io devo andare praticamente la tattica forse è la seguente io avanzo alla massima velocità vado sott'acqua e poi lancio il siduro dietro e non ho altre non ho altre idee sinceramente intanto lanciamo un altro siduro congelante sperando che vada a destinazione allora andiamo sott'acqua vai che bello possiamo rimanere per un minuto e trenta almeno con questo sommergibile non è una durata illimitata è un po complicato con i tasti perché ovviamente non sono abituato con il tasto fc quindi devo tenere a mente questi ulteriori tasti guarda nel frattempo il sommergibile com'è bello no ragazzi secondo me è un capolavoro adesso di che cosa stiamo parlando ci stiamo avvicinando particolarmente massima velocità sott'acqua si può dire è individuato e io vado ancora più giù guarda però attenzione perché poi dobbiamo emergere e dobbiamo emergere tra 40 secondi però questa cosa che i siduri si possono utilizzare solo diciamo a poppa è un po fastidiosa vai ottimo beh tecnicamente hanno le torrette dall'altra parte quindi si si e allora funziona così abbiamo un incendio sott'acqua il che è paradossale però va bene io a questo punto direi di avanzare verso il covo allora andiamo subito vai esatto emersione cerchiamo di rimanere il meno tempo possibile sott'acqua perlomeno quello che quello che ci serve perché altrimenti poi la barra come vedete sulla sinistra non si ricarica veniamo spottati a 4.3 ma c'è un'altra strada no perché l'hanno progettata molto bene guarda lì siamo completamente chiusi quindi dobbiamo superare una serie di ostacoli rappresentati dai vari incrociatori e quant'altro oh no sì io qua andrei sott'acqua vai e si va giù ancora una volta non si può recuperare vita perlomeno non ci sono tasti poi non so se durante la missione ci sarà una zona per recuperare però non ho dubito ok una buona hit allora sicuramente ci vuole un po' di tempo ragazzi per ambientarsi con i tasti devo essere sincero perché molte volte vedi ecco il tasto fc lo vado a confondere si potrebbe anche cambiare sicuramente però no no la mina no mi ha beccato danno moderato le cariche di profondità maledetti guarda 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 la carica di profondità mi ha beccato in pieno e non l'avevo vista perché non me l'aspettavo sinceramente allora con f andiamo in emersione vai veloce 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 che ce l'abbiamo dietro si nooo e dai ma non puoi ho mancato in pieno tra l'altro eh no mannaggia dai e vedi con i tasti che è un casino ma chi è che mi spara ah ok via si ritorna sott'acqua un'altra hit ma quanto siamo lontani no sono tutti qui una kill sono tutti qui nooo vabbè scusate io qua come devo fare a passare ci sono 800 navi senti io me ne vado a destra andiamo si 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 mi conviene possiamo rimanere ancora un minuto sott'acqua siamo a una profondità di 140 metri no direi che è un pochino troppo quindi cerchiamo di ristabilire una una diciamo profondità ma perché schiacciocci ogni volta mi confondo devo emergere 4.3 siamo vicinissimi a quella corazzata forse non mi conviene emergere adesso rimaniamo ancora un po' sott'acqua no no niente con i tasti non riesco ad avere una una pace vado a confonderli sempre ma io ragazzi a questo punto andrei da questa parte sinceramente via eccomi via 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 no 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 non mi fa no no eh guarda la la catapulta che che spara su di me ma io comunque questi li vado a lanciare allora io sono con la massima velocità e vado sulla sinistra mentre i miei alleati sembrerebbero andare da quella parte eh non so se è un'idea buona eh allontanarsi dal gruppo però ripeto eh non so cosa trovare cioè ci saranno altri nemici perché dice avvista le installazioni costelle del nemico 11 su 14 trova la posizione del castello di covo nero 5 minuti ancora e poi elimina tutti i nemici 12 su 15 abbiamo eliminato per il momento per l'appunto 12 nemici ne mancano 3 suppongo che non ci sia nessuno quindi dobbiamo andare direttamente sulla alla base al castello abbiamo fatto 100.000 danni tra l'altro proprio precisi abbiamo perso circa 3.000 punti una dei danni che possiamo in qualche modo gestire possiamo sopportare la catapulta sta guardando da tutt'altra parte uh vede una specie di quello che sembrerebbe un portale come nell'episodio precedente mi verrebbe da dire siamo distanti 14 chilometri eh ma in 14 14 chilometri a 4 minuti evita gli scontri con i cacciador pedinieri stile rat perché trasportano cariche di profondità come non detto io faccio finta che non esista abbiamo perso nel frattempo un cacciador pedinieri evita gli scontri tra l'altro ricordiamo questa cosa molto importante ecco avete visto io sto andando tranquillamente sul lato destro mentre i miei alleati si stanno anche giustamente scontrando con le con i nemici completato a vista molto bene grazie eh c'è un altro cacciador pediniere vedi in alto a sinistra e c5 tredici su quindici dai ragazzi che noi nel frattempo andiamo almeno raggiungiamo no la rasputin no è vero posso lanciarli solo solo fai attenzione in superficie la rasputin può evocare navi arci nemiche in qualsiasi punto nel porto dei cinque corvi fantastico senti io qua devo andare in retromare cioè devo cambiare direzione altrimenti non posso lanciare i miei siluri ragazzi dobbiamo distruggere la rasputin però dobbiamo raggiungere anche il tro il covo come facciamo qua a fare tutto con quale tempo no dall'altra parte vedi perché poi diventa il contrario vai 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 tu vai al covo io lancio i siluri sulla rasputin è l'unica cosa che possiamo fare no è vero questo è davanti ragazzi non è semplice perché i tassi sono al contrario ovviamente quando vai a sinistra vai a destra perché vai con una visuale diversa quindi è molto facile andare in errore nel frattempo i miei siluri non vanno a segno neanche a pagarli senti io torno indietro e cerco un'avanzata strategica dobbiamo raggiungere in due minuti non ce la faremo mai no dai 4 stelline non dirmi 4 stelline ah ma lui si sta allontanando ora ho visto ottimo dai ma comunque la vediamo lo vediamo il covo nero lo vediamo che cos'è questa cosa qui lo vediamo cioè è a 10 chilometri abbiamo sempre saputo dove si trovasse il covo nero no 4 stelline sempre se andiamo a distruggere la rasputin secondo me veniamo distrutti ma è lì guarda lo posso vedere trovo la posizione che devo trovare l'ho vista la vedo la vedo che devo trovare avvistata no no e io me ne vado sott'acqua via no in un minuto devo riemergere però come facciamo eh ragazzi le cose si complicano un minuto e 30 no stai giù stai giù non andare sopra eh sono individuato ma non è che è quello che lancia le cariche di profondità vero non è lui non sei tu vero ottimo vai un minuto cerchiamo di avere una profondità idonea 7 chilometri si abbiamo completato anche quello castello di covo nero individuato le riparazioni della rasputin sono state interrotte ah si stava anche riparando hai capito si stava anche riparando io direi di allontanarmi perché vedo una torre con 100.000 punti quindi per non saper né leggere né scrivere mi allontano mi allontano anche perché ho il caccia d'orpediniere dietro di me abbiamo 30 secondi che gameplay emozionante mi sto guarda mi sto divertendo troppo allora aspetta no f bravo così vai vai no no vai giù aspetta 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 dove la rasputin dov'è e vabbè ragazzi ma qua mi stanno puntando in no non è fattibile come cosa non è fattibile ce ne sono troppi ce ne sono troppi mi devo allontanare abbiamo sette minuti salva almeno tre sommergibili mi potrei anche sacrificare per la squadra basta che andiamo a vincere guarda il sacrificio di devi allora no mi devo allontanare mi devo allontanare no ma perché guarda c'è il caccia d'orpediniere sopra la mia testa ok un siluro è andato a segno non so su cosa non so su cosa siamo individuati ce ne freghiamo massima velocità F no C C F ma c'è il caccia d'orpediniere che mi dà la caccia eh per l'appunto devo salire non mi sembra vero la fine di devi in diretta vai giù vai giù vai giù vai giù l'ho distrutto si ottimo molto bene eh però pochi punti vita e stiamo anche bruciando tra l'altro dai ma non posso bruciare sott'acqua ma cos'è infatti poi viene spento quasi immediatamente però insomma allora a 113.000 punti se leggo bene vai sali 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 livello di ossigeno critico tranquillo sono salito ottimo attenzione siluri io mi posso anche fermare perché continuo a muovermi senza motivo ecco mi fermo e lancio i siluri perché mi complico la vita alle volte vai 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 tranquillo tranquillo lui è in difficoltà assoluta vai che distruggiamo questa rasputin una volta e per tutte così l'incubo sarà finito ok io direi di andare un po' più vicino la rasputin comunque la vedo molto in difficoltà abbiamo quella zipper sub che si avvicina con 22 punti vita vorrei sottolineare 22 punti vita abbiamo fatto 170.000 danni attenzione una hit sulla rasputin grande vai con i siluri vai no quello no mannaggia aspetta aspetta ok perfetto un altro sono siluri congelanti sta perdendo punti sta imbarcando acqua per la nostra felicità forse l'incubo è finito ce la possiamo fare dobbiamo salvare tre navi ricordiamo abbiamo 4 5 minuti per l'impresa per il sogno di libertà che a quanto pare si va a concretizzare attenzione abbiamo perso un altro sommergibile non dobbiamo assolutamente morire 200 no ne abbiamo perso un altro ritirata strategica per favore non morite adesso si che sudata sott'acqua e allora vediamo i risultati post scontro vediamo si 5 stelle terrore degli abissi completata fantastico fantastico abbiamo individuo 5 siluri abbiamo completato anche un po' di di missioni a quanto pare abbiamo poi guerriero della luce e anche terrore degli abissi punteggio squadra siamo arrivati terzi ma ce ne freghiamo altamente perché la Rasputin è finalmente distrutta abbiamo causato bene 100.000 danni allagamenti anzi 92 allagamenti 68 crediti levate le varie spese andiamo a guadagnare una bella cifra ottenendo la vittoria contro la Rasputin ho sbloccato un nuovo sommergibile eccolo qui per quanto riguarda gli altri sommergibili si possono sbloccare nella sezione missioni di combattimento dobbiamo semplicemente andare a completare le missioni per l'appunto che sono richieste ottieni 5000 di esperienza base 5000 10.000 e così via attenzione perché avete un limite di tempo fino al 22 11 2018 ragazzi video terminato fatemi sapere cosa ne pensate dei sommergibili se vi piace l'operazione e se in un futuro pensate che sia effettivamente possibile inserire sommergibili nel gameplay che tutti noi conosciamo come detto video terminato grazie per l'attenzione noi come sempre ci vediamo alla prossima ciao 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 Musica